Ciao ragazzi, in questo video vorrei parlarvi di qualcosa relativo al pronome riflessivo SE perché si commette spesso un errore che non va bene il pronome riflessivo SE si usa in riferimento a una sola persona ad esempio quando diciamo frasi come Marco è molto sicuro di sé inteso di se stesso ma si usa anche il riferimento a più persone quindi dobbiamo dire, ad esempio Marco e Luca sono molto sicuri di sé e non come spesso si legge e si sente Marco e Luca sono molto sicuri di loro non esiste, esiste solamente il pronome riflessivo SE in frasi di questo tipo sia per riferirsi a una sola persona sia per riferirsi a più persone quindi state attenti a questo errore spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo